il loro cuore non c'è, allora quello di cui vi dovete rendere conto è che a volte arrivano degli esseri dai mondi spirituali che creano dei veri e propri canali, creano dei canali, con la loro presenza su questo pianeta creano dei canali di luce e non sto farloccando a livello filosofico perché a me non me ne frega niente di dire delle cose che non sento dentro, è qualcosa che vedo con chiarezza e che anche voi potete vedere con chiarezza, nessuno può salire al cielo se non colui che è sceso dal cielo il figlio dell'uomo, vabbè adesso stiamo a vedere a volte si chiama il figlio di Dio, figlio dell'uomo lasciamo perdere, no anzi non lasciamo perdere, il figlio dell'uomo, dice così il figlio dell'uomo cosa vuol dire questa straordinaria possibilità che viene dal cielo, avete capito cosa intendo per cielo per rendere gli umani diversi da quello che sono stati fino a quel momento e occorre qualcuno che metta in atto questo canale nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta vi è smarrita non sai dove andare, non hai una direzione non sai dove andare, non sai dove andare e chi di voi non ha provato dei momenti di scoraggiamento, di un po' di depressione, di momenti di frustrazione in cui non si sa dove sbatte la testa, ci siete passati tutti perché è un'esperienza fondamentale non ci siamo passati tutti e dovremmo ringraziare questa esperienza, dovremmo ringraziarla nella misura in cui poi ci diamo una mossa perché se no, perché si possa passare tutta la vita in quel modo chi di voi vuol passare tutta la vita in quel modo però passare attraverso questi momenti di scoraggiamento e di depressione è importante anch'io, anch'io, anch'io un giorno avrei voluto buttarmi da qualche parte e dire io di questa vita di merda non mi interessa non abbiamo un po' tutti sentito questa cosa no? vedete cosa voglio dire magari non avete pensato di buttarvi da qualche parte però dai che ci sono stati dei momenti in cui per qualsiasi ragione, per la perdita di una persona cara per un fidanzato che non ci voleva più bene perché siamo stati bocciati a scuola perché qualcuno ci ha detto che abbiamo il naso lungo perché a volte non è che ci voglia così tanto hai le gambe storte, quella rientra a casa e funziona ancora così e le gambe storte quando si buttano al quinto piano io non voglio avere una vita con le gambe storte io quando ero ragazzino ho cominciato a capire chi ero mi sono guardato allo specchio e ho detto è meglio che mi buttano al quinto piano poi fortunatamente c'è stato qualcosa all'interno di me che ha detto va beh dai anche se sei ridotto così vedrai che la vita ha un senso anche per te allora la selva oscura è quella nella quale noi abbiamo vissuto per milioni di anni poi sapete cos'è la ricapitolazione sapete cos'è? ognuno di noi arriva su questo pianeta e ricapitola un po' alla volta i milioni di anni che abbiamo vissuto molto velocemente naturalmente quindi passiamo tutti attraverso questi momenti di nulla, di vuoto di selva oscura e quando c'è questa selva oscura piena di rovi ci deve essere qualcuno che con un macete in senso spirituale naturalmente va e libera un po' il cammino e se no e questa frase dice guardate che dal cielo è sceso qualcuno che ha tracciato una linea attraverso la quale finalmente tu puoi passare a me questa cosa comune cosa volete che vi dica? ve la ripeto mi guardo dentro e vedo che sono perso non so il senso dell'esistenza e senza il senso dell'esistenza chi sono io? ma chi sono? cosa faccio? lavoro? vado in pensione? mi compro la casetta? tutto costruito sulla sabbia? come dice ancora una volta il Vangelo senza senso? così? no? non la sentite questa cosa? che senso ha? mi ammalo? non so perché? poi forse guarisco prendo un po' di medicina il fidanzato mi vuole bene un giorno e il giorno dopo non mi guarda neanche più in faccia cos'è? ma cos'è? cosa succede su questo pianeta? cosa c'è che non va? la selva oscura allora guardate cosa dice questa prima frase tutto il giorno potremmo stare su questa prima frase per capire bene come funziona cominciate a entrare un po' in questa cosa nessuno può salire al cielo se non colui che è disceso dal cielo cominciate a vedere la grandezza di questa frase non comincia ad avere un senso dentro non c'è qualcosa che si muove dentro di voi vedete? e capite che più ve ne parlo e più questa sensazione si amplia più ve ne parlo e poi dite ah che bello ma che bello guarda è proprio così ed è proprio così e questa cosa va vista all'interno cosa vuol dire tutto questo? beh allora prima eravamo avete capito come eravamo non avevamo alcuna possibilità di accedere al regno dei cieli e il regno dei cieli significa la felicità poi non è che sia sono parole forse complicate ma non vogliamo essere felici questo è l'obiettivo principale della nostra esistenza essere felici il resto poi vediamo vediamo un po' ho da mangiare un giorno ho da mangiare di meno un altro giorno ma se sono felice che tutto venga l'obiettivo principale è la felicità ma la felicità non c'era perché la felicità significa abitare nel regno dei cieli o no non abbiamo parlato di questo l'altra volta più o meno cos'era Sonia? qual era l'argomento dell'altra volta? eh? hai talenti non c'entra niente è lo stesso però l'anno scorso e gli altri anni l'abbiamo parlato dai cioè il regno dei cieli che cos'è? lascia stare non è una cosa complicata il regno dei cieli è quando sei felice Gesù ti dice non cercare il regno dei cieli da un'altra parte perché intorno a te quando sei felice il regno dei cieli è intorno a te è molto semplice ma se il regno dei cieli non c'è intorno a te sapete che è un gioco di parole perché il regno dei cieli è intorno a te ma tu non hai la consapevolezza per abitarci in questo regno dei cieli perché sei tu che devi abitare in questo regno dei cieli se tu non hai questo legame col mondo spirituale col mondo reale perché questo è un mondo immaginario col mondo reale tu nel regno dei cieli non ci entri mai e avrete sempre quello sguardo che avete fatto prima normalità normalità gli altri esseri umani se mi sono utili posso anche sorridere ma se non mi sono utili non c'entra niente perché il nostro mondo era basato sulla sopravvivenza e quindi i nostri amici erano quelli che ci permettiamo di sopravvivere cosa puoi fare tu per me cosa puoi fare tu per me la vedete questo atteggiamento cosa puoi fare tu per me e sapete che il mondo nuovo è il contrario cosa posso fare io per te questi sono i principi spirituali vedete e vi rendete conto che voi abitate in mezzo a queste due situazioni in mezzo sapete in mezzo ancora ogni tanto dite cosa puoi fare tu per me mi sembra così strano confidanzato fate sempre così confidanzato è una regola fissa cosa lui può fare per voi non fate i furbi perché lo so benissimo che così ci cascate sempre perché se l'altro vuol fare la sua vita questo vi mette in uno stato di angoscia vi sentite una mano che vi stringe forte qua quindi siamo ancora nel campo di cosa l'altro può fare per me se mi lasci morirò se mi lasci mi fai soffrire che vita da pidocchi rognosi se mi lasci mi fai soffrire non è quello che stiamo vedendo adesso non abbiamo ancora un piede in questa situazione ma perché mai se l'altro mi lascia mi dovrebbe far soffrire sarà un problema suo se non mi vuole vuol dire che non mi merita ma queste sono cose da novella 2000 ma adesso va bene ma volevo solo farvi indicarvi che noi abbiamo ancora un piede in quella situazione invece abbiamo anche un piede nella situazione nuova che qual è? non è più cosa tu puoi fare per me o no? dai fatemi un sorriso per favore non state passando in questo mondo nuovo dove dite ma che vita da pidocchio e che cosa puoi fare per me dai ma dai e incominciate a avere nel vostro cuore si vede questa cosa si vede queste cose si vedono si vedono proprio incominciate a avere nel vostro cuore cosa io posso fare per te non è così? non è così? non è bello? sorridimi non è bella questa cosa qua? non la sentite forte questa cosa? poi col fidanzato di un altro mondo mettete una specie di lucchetto alla vostra empatia e diventate dei caini Abele no Abele magari no ma dei caini si la vedete questa doppia situazione? vedete che siete proprio in mezzo? vorreste essere nel mondo nuovo ma ancora spesso spesso vivete degli atteggiamenti che appartengono al mondo vecchio tutto questo senza accorgeveni invece dovete accorgeveni di questa cosa allora guardate bene se voi state passando in un modo nuovo di essere e ve l'ho appena spiegato quindi avete capito ve l'ho appena spiegato beh ma vi è mai venuto in mente seguitemi bene allora avete capito? avete un piede nel mondo vecchio e un piede nel mondo nuovo l'avete capito bene ma vi è mai venuto in testa una volta di dire che questo passaggio ci sono delle ragioni su questo passaggio vedete che se non vi fate mai questa domanda ma capite cos'è la scontatezza intanto io devo farvi mettere l'attenzione sul fatto che abitate due mondi diversi già che se no uno non ci pensa mai voi potete vivere tutta la vita senza mai pensare un tubo di queste cose vi rendete conto vivete così dite io sono normale sono così sono normale ma guardati dentro a vedere ma perché sei così perché hai un piede in un mondo vecchio già bisogna già bisogna rendersi conto porca ma che lavoro già vi dovete rendere conto che avete un piede da una parte un piede dall'altra perché voi mettete tutto in un gran calderone si chiama l'equilibrio instabile dentro lì mettete tutto pensate di essere una persona sola lì dentro quando invece ci sono almeno due persone ce ne sono tante ma ce ne sono almeno due una che dice no perché tu perché la mia felicità dipende da te roba da preistoria ancora dall'altra invece ogni tanto avete dei momenti di lucidità dite no non può essere così leggete san francesco e dite poiché è dando che si riceve e voi dite che bello ci capite niente perché non capite niente però vi piace questa cosa poiché è dando che si riceve che bravo lui san francesco lui che bravo lui poi arriva il vostro fidanzato dove sei stato il viaggio all'interno di sé conoscere se stessi sono tutte queste cose che vi sto raccontando che sono visibili perché vi sto dicendo delle cose che voi riconoscete le guardate e dite cavolo sono proprio io quello che sta descrivendo sono proprio io non penso che qua ci sia qualcuno che diga che non è così però vedete la consapevolezza che cos'è la consapevolezza è guarda chi sei non hai bisogno neanche di studiare dei libri di fare dei viaggi ti guardi chi sei e stabilisci chi sei ma la domanda è una volta che hai stabilito chi sei ma ti sei mai chiesto che questo passaggio a questo mondo nuovo non è scontato ma è chiara la domanda l'avete capito bene vi rendete conto vi rendete conto di abitare due mondi è scontata questa cosa se non ci pensate mai questa cosa è scontata e per tutta la vita non vi fate mai questa domanda pensate un po' come funziona questo pianeta e anche quando vi fate la domanda la risposta dov'è? mi seguite? riuscite a seguirmi? la risposta dov'è? ammettiamo che non sia scontato che io sia così dovreste farvi questa domanda e vi dite sì vabbè ma allora cosa so potreste anche arrivare all'intuizione di dire sentite bene forse che devo ringraziare qualcuno è bellissima questa frase ma vedete cosa sto dicendo sto incominciando a percepire l'empatia nel mio cuore forse che devo ringraziare qualcuno non è una bella domanda io continuo a farmi delle domande senza senso così sempre sempre le domande così dove gli altri vedono cose scontate io dico no non c'è niente per me non c'è niente di scontato qualsiasi cosa voi dite ah perché oggi piove no oggi non piove vaffa tu e l'ombrello cavolo non date mai per scontato niente andate sempre a vedere allora la domanda che voi potreste farvi ma devo ringraziare qualcuno e guardate questa domanda è una domanda pazzesca è pazzesca sta domanda perché voi potreste prenderla così devo ringraziare qualcuno ah grazie no perché perché il ringraziamento fa parte del mondo nuovo oh ricominciamo hai un piede nel mondo vecchio e un piede nel mondo nuovo te ne sbatti le valle e vai avanti così ogni tanto provi un po' di empatia ogni tanto ti incazzi con qualcuno questa è la vita terrena però voi venite qua perché volete fare qualcosa di più va bene seconda tappa ti guardi dentro e dici questa cosa non è scontata terza tappa quarta tappa quinta tappa e questa è comunque la fede ti dici ma non è che devo ringraziare a qualcuno poi dici ma non è che il ringraziamento di sé fa parte del mondo nuovo vedete altrimenti la domanda è fino a se stessa ah sì devo ringraziare Gesù devo ringraziare il Buddha sì ah vabbè grazie ma come grazie perché il ringraziamento è proprio parte integrante di quel mondo nuovo nel quale tu vuoi entrare a far parte allora il ringraziamento diventa un atto di consapevolezza importante è una domanda che tanto te la devi fare e poi quando tu ti fai questa domanda ti dici sì caspita c'è veramente qualcuno che devo ringraziare allora ascoltate di nuovo nessuno può salire al cielo avete capito cosa vuol dire salire al cielo vuol dire un po' di felicità un po' di serenità in sto cavolo di mondo o no perché se voi leggete salire al cielo nessuno può salire al cielo cosa fate così con le ali cosa fai ma cosa fate quando leggete queste cose ma cosa fai non fai niente leggi questa cosa arrivi alla fine e dici anche oggi ho letto il pensiero del giorno ma deve diventare la tua vita quella lì se no cosa serve un insegnamento spirituale resta lì nessuno può salire al cielo se non colui che è disceso al cielo ma porco porco ma ti guardi dentro e cosa percepisci vedi un punto di luce che si espande all'infinito e alla fine di questo punto di luce c'è qualcuno che ti aspetta ma dai ma dai Gesù dice lì dove io vado voi non potete venire e voi dite perché mamma mia che mondo ragazzi che mondo dice perché non posso andare dove lì lui va lì io non posso andare perché perché il mio papi il mio papi se vuole mi compra l'elicottero il mio papi o i milanesi il mio papi mi compra l'elicottero dove vai con l'elicottero vedete perché Gesù va lì io non posso andare ma chi si crede di essere lui non sa chi sono io che mondo ragazzi che mondo allora rifletti sulle cose lui va lì e tu non ci puoi andare cosa vuol dire ma cosa vuol dire questa cosa perché lui va nel mondo della bellezza dell'armonia se tu non percepisci la bellezza e l'armonia non ci puoi andare con lui puoi andare a fare la visita al museo con qualcuno dici io ci vado a fare la visita però l'altro vede delle cose che tu non vedi l'altro si commuove davanti a un'opera d'arte e tu dici ti siedi davanti a un quadro di Raffaello e guardi il cellulare per vedere cosa ha fatto l'Inter e poi c'è Gesù lì seduto di fianco che ti dice lì dove io vado tu non puoi venire e tu fai sono venuto anche io avete capito non è un posto fisico beh questo veramente almeno questo ragazzi cioè aiutatemi un po' almeno questo qua dice non è che no perché lì dove ci va lui posso andare anch'io ho le gambe cammino no per favore lì dove io vado tu non puoi venire ma non perché io ti impedisco di venire ma perché non puoi entrare in quel mondo lì perché hai passato milioni di anni senza empatia avete capito dove vi voglio portare vi voglio portare a sconfiggere la scontatezza se no siamo rovinati perché il mondo della bellezza il mondo dell'armonia è al contrario del mondo della scontatezza lo capirebbe anche un bambino no dalla banalità finché vediamo nel mondo della banalità non possiamo entrare nel rino dei cieli Gesù arriva vede un mondo che l'ha messo in croce del resto perché un mondo senza empatia cosa può fare arriva uno che dice perdona il tuo fratello e uno dice perdono cos'è sta cosa manco la parola perdono cos'è il perdono quando vi siete guardati prima in quel minuto di 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 sguardo freddo beh c'è una mancanza di empatia mancanza di perdono mancanza di tenerezza mancanza di compassione mancanza di tutto quello che volete c'è una mancanza di tutto si può vivere così si può vivere benissimo arrivi al mondo muori arrivi al mondo muori fai la cacca una volta al giorno per 360 giorni per 100 anni cosa fa 36.000 cagate non so cosa fa quanto fa non so ho sbagliato i conti 3600 solo 3600 cagate saranno di più 36.000 giusto allora vi rendete conto andate andate nell'aldilà San Pietro cosa hai fatto ho cagato 36.000 volte bravo che è una bella una bella opera perché avete creato comunque del materiale per metterci dentro dei semi dai diamanti non nasce niente e da quella roba lì nascono i fiori quindi mi dirà San Pietro bravo bravo e voi direte c'è stato anche un periodo che avevo la cagarella allora ti concedo un posto nel paradiso speciale quelli che avevano la cagarella che hanno cagato 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 creato tonnellate quel posto è il vostro posto va bene allora prendetevi conto di quello che vi sto dicendo e cioè lì dove io vado voi non potete venire è un po' chiara questa cosa ve la devo spiegare ancora non posso andare non ci posso andare fisicamente ma neanche fisicamente dove vai fisicamente non so per esempio sapete che andiamo in giro con i libri e qualcuno mi dice ma i libri non li metti dietro nel bagagliaio no lascia lì davanti i libri perché tanto i ladri i libri non gli frega niente proprio assolutamente nessun ladro romperebbe un vetro per prendere un libro e se lo facesse lo ringrazierei perché direi guarda un po' che meraviglia no? che bello gli regalerei qualche libro anch'io vedete quindi in quel posto lì nessuno ci può andare va bene però cosa dice Gesù ma come fate ma come fate a non innamorarvi di queste cose Gesù dice tu non puoi venire lì dove io vado però io ci vado anche questo non è scontato anche questo non è scontato che un essere di luce vada da qualche parte avete capito cosa vuol dire andare da qualche parte avete capito significa creare un canale tra il mondo terrestre demente e il mondo spirituale creare un canale potrei anche spiegarvi come si fa questo canale ma insomma ragazzi scusate un po' così creare un canale ognuno di noi crea un canale che cos'è un canale dai dai su ogni volta che voi che voi siete accoglienti la sensibilità le mie domande sono sempre senza risposta infatti l'avevo detto signore fa per favore che non risponde no è molto bello quello che dici magari poi c'è un tempo per le vostre interventi quando farete i vostri interventi io vado in bagno no poi c'è il tempo per le domande perché sto scherzando naturalmente come al solito è necessario entrare in questo stato d'animo e capire questa cosa con precisione allora questo punto avete capito non posso andare lì da lui perché non ho dentro di me la necessaria consapevolezza per vedere quello che vede lui va bene e nel caso del discorso di oggi che è la fede dice ai suoi discepoli beati voi che vedete qualche cosa che gli altri non vedono che vi rendete conto di qualche cosa che gli altri per gli altri è sconosciuto e anche questo non è la stessa frase se noi facciamo una passeggiata fuori ognuno di noi vedrà delle cose diverse non è così e qualcuno potrebbe dire se ci fosse Gesù con noi potrebbe dire simpaticamente potrebbe dire guardate siamo andati a fare una passeggiata insieme però quello che ho visto io voi non l'avete visto non lo dirà forse però potrebbe anche dirlo e se tu sei veramente un discepolo e lo ami dici sì lo so signore lo so mi rendo conto signore e gli direi insegnami a vedere il mondo come lo vedi tu o no quando ci rendiamo conto che siamo in presenza di qualcuno che vede non in senso di vede la Madonna di Lord ma che vede il mondo in un altro modo dammi una mano a vedere questo mondo forse la giornata di oggi è un po' così senza prendersi sul serio però un po' così vado lì passo la giornata e vorrei vedere il mondo in un modo diverso stasera vado a casa spero di avere nel mio cuore qualche cosa che rende i miei occhi più sensibili a un certo tipo di realtà non è così se no che ci vado a fare cambiare interiormente questo è importante ma guardate la seconda parte di questa frase vado lì tu non puoi venire però io ci vado avete capito come si crea un canale quindi sei accogliente sei accogliente sei più accogliente di quello che dovresti essere meccanicamente anche qui devo parlare devo spiegare siamo tutti accoglienti però dobbiamo raddoppiare i nostri talenti e questo non mi dite che non l'avete imparato perché ho fatto la giornata sui talenti ciò vuol dire che potete essere ancora più accoglienti quando fate quello sforzo per essere più accoglienti in quel momento aprite un canale ognuno di voi può essere qualcuno che apre un canale grazie a tutti